benvenuti nella cucina di benedetta e parodia oggi vi presentiamo un dolce che vi lascerà senza parole le chiacchiere di carnevale e dici senza parole so chiacchiere chiacchiere di carnevale passiamo agli ingredienti 500 grammi di farina 70 grammi di zucchero 150 grammi di burro un uovo due cucchiai di grappa a grappa e non ce n'è e dove sta la grappa sei grammi di lievito per dolci un pizzico di sale e poi bisogna impastare signore volete un altro po e c'è una mambriaca a questo punto mescolate tutto e lasciate riposare per mezz'ora e per mezz'ora cosa facciamo facciamo due chiacchiere una volta che l'impasto è riposato lo prendiamo e lo stendiamo si prende una rotella e si fanno delle delle strisce le potete fare fritte però se qualcuno ha il colesterolo le può mettere anche al forno dopo averle fritte ecco a voi le chiacchiere chiacchiere cote e mangiate e bevute questa ricetta vi è stata offerta delle sorelle benedette parodia dalle cacchiere passiamo ai fatti venite tutti a putignano per il carnevale di putignano 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti